Funziona, Salvini dice dateci una mano col voto a Caserta per mandare a casa l'azzolina. Interessano solo i poltrone al professionista della politica e delle fake news Salvini. Salvini però dovrebbe fare un piccolo sforzo, non so se ce la fa ovviamente se ne ha le competenze. È sufficiente che va su un qualsiasi motore di ricerca visto che è sempre sui social. Digita www.istruzione.it, rientriamo a scuola. Ci sono tutte quelle risposte alle sue domande che strumentalizza quotidianamente perché deve avere un capo espiatorio, un nemico per mettersi un microfono in mano e andare giro a sparare stupidaggini e di conseguenza avrebbe tutte le risposte. Ma Salvini sa, ma sicuramente non lo sa perché non studia, che domani arrivano i primi banchi di scuola dei 2 milioni e mezzo che sono stati comprati dalle 11 imprese con quella gara europea arrivano a Codogno, al Cano Lombardo, a Nembro, quei comuni che hanno visto centinaia di morti e sono stati gestiti dalla sanità poche in mano politicamente alla Lega con medici e infermieri bravissimi e una gestione politica devastante andasse a Codogno, ad Alzano e a Nembro a metterli a posto quei banchi. Direttore Volinali... Ma questa è la sua opinione, è una cosa però, lei di tutti gli avversari dice che vanno in giro a sparare cavolate. No, lo dico di Salvini, lo dico assolutamente... Quando mai mi hai sentito dire una roba del genere? E perché è così duro? Ma non sono duro perché vedo i fatti, perché so che cosa significa fare ministro, so che cosa significa prendere delle decisioni, so cosa significa con livelli amministrativi frammentati, con duplicazione di poteri complessi nella gestione politica e governativa di un paese, trovare delle soluzioni e so quanto è più facile invece andare in giro. È facilissimo andare in giro. Quello però è la politica... Lei non l'ha mai fatto andare in giro a dire di quelli che governavano prima sono degli incapaci. No, questi termini no, quel signore lo faceva anche quando ero ministro, di cosa stiamo parlando, lo sapete meglio di me. Però eravate alleati, in quel periodo lì non vi lo diceva. Avete avuto un rapporto quasi di amicizia quando vi sentivate sui porti tutti i giorni? No, di obbligata collaborazione, di obbligata collaborazione, completamente diverso. Fino a quando è durata l'avete fatto con la realtà che la politica ci pone. Però direttore Molinari...